Quando sei uscito dal campo la standing ovation del pubblico aquilano dimostra di quanto tu sia già diventato importante non solo per la squadra ma anche per la tifoseria. Ma noi siamo tutti importanti, ho fatto appena il quinto gol e spero di farne altri ma l'importante è la squadra per me. Mi ero più contento pure se segnava Pacilio, Ceccarelli e non male che avendo segnato io avevo una gioia in più. Quando ti sei visto arrivare quel pallone respinto da Dario cosa hai pensato? No, no perché stava fumante davanti a mi credevo la coppia a lui poi stavo alle spalle e l'ha lasciata la valvera l'importante è che è andata bene e è andata dentro soprattutto per i tre punti che è la cosa fondamentale in questo momento. Adesso prossima partita ancora in casa con la Pistoiese, presto per pensarci ma guardando già in là che partita ti aspetti? Una partita sicuramente difficilissima perché come ci dice sempre il mister partite facili non ce ne sono perché vedi pure il P, la Leggiana prima ha perso a Gubbio poi ieri ha vinto di nuovo, non ci sono partite facili. Noi l'importante dobbiamo pensare in casa nostra e essere sempre sul pezzo come ha detto il mister in conferenza stampa prima della partita e dimostrare ogni partita essere sempre più forte. perché io credo sì in me stesso con i miei amici che noi non siamo soprattutto inferiori a nessuno.